benvenuti allo sfogliatoppo dello speciale topolino 3000 realizzato dalla situazione del paper zero in occasione appunto il raggiungimento del tre millesimo numero da parte del settimanale disneyano ho parlato in maniera più approfondita di questo volume in un video di collezione disney che vi lascio in descrizione in questo sfogliatoppo in particolare cercato di soffermarmi giusto un po di più sugli articoli realizzati dalla sottoscritto da alcuni amici come per esempio Piero Pateri, un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare il caro amico Andrea Bravini che avete imparato a conoscere visto che ogni tanto è comparso nei video di disney 100 presenti su questo canale e poi l'amico del paper zero anche ex collaboratore del spazio bianco amene Padini senza dimenticare poi il video stabile che per il momento non ho ancora avuto il piacere di conoscere ma che spero poter provvedere il prima possibile grazie a tutti 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 un articolo a carattere matematico per uno dei carnevali della matematica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.